Allora ragazzi, il giro non è difficilissimo, è un MC con qualche pezzo di C che poi scenderete, non sono pezzi lunghi, è l'unica cosa, mi raccomando. Allora ragazzi, è l'unica cosa, mi raccomando, 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 Allora ragazzi, il giro non è l'unica cosa, mi raccomando, è l'unica cosa, mi raccomando, Allora ragazzi, il giro non è l'unica cosa, mi raccomando, è l'unica cosa, mi raccomando, Rock you like a hurricane Here I am Rock you like a hurricane Here I am Rock you like a hurricane Grazie a tutti